e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti e buona vigilia a tutti voi ero indeciso oggi se fare la live oppure no soprattutto perché non sapevo se ci sarei riuscito alla fine fortunatamente sono riuscito a liberarmi questo retta qua tra commissioni e cene varie e quindi eccoci sul pezzo anche oggi e anche voi vi vedo belli carichi quindi non si molla mai è bellissimo vedere come siete sul pezzo in qualsiasi momento giuro che oggi non vi ruberò troppo tempo vi cerchiamo di farla magari in maniera un po più spedita questa live senza perderci troppo in fronzoli ma ho delle cose importanti da dirvi quindi ci tenevo anche a fare questa chiacchierata soprattutto per la eipata del giorno che mi avete subissato di domande di messaggi quindi ho detto forse meglio se la facciamo in live così posso rispondere alle domande e anche a chi mi dice sei pazzo sei folle hai fatto bene hai fatto male perché mi piace anche avere un po di feedback no in diretta da voi proprio da voi quindi bene partiamo subito con che situazione allora come lo affrontiamo questo natale a sto giro beh non malissimo direi è perché vabbè siamo alla grande bullish a livello macroscopico la situazione è sempre la solita vi ricordo guardate che bomba bomba veramente perché abbiamo avuto un 2020 e un 2021 di cui non ci possiamo assolutamente lamentare no non so cosa ne pensate voi ma sono stati degli anni abbastanza caldi per bitcoin è diventato ancora più mainstream nel modo buono però non mainstream come nel 2017 a bolla speculativa ma mainstream lato fondamentale ho visto molte persone avvicinarsi molte persone voler imparare cose nuove voler approfondire questa è la differenza no che secondo me ha veramente fatto tanto per l'ecosistema cripto poi se se ci pensiamo il 2021 è stato caratterizzato da due massimi molto vicini intervallati da un forte dump e ripresa quindi è stato un po strano come anno non è che è stato estremamente bullish lato price action però secondo me lo ripeto lato fondamentali assolutamente sì e questo non può che piacermi andiamo a vedere anche il grafico mensile visto che il mese di dicembre tra poco termina insieme all'anno 2021 per l'appunto e guardate che non è affatto brutto è il grafico mensile ci riguardavo oggi ci riflettevo oggi spesso ci perdiamo nei grafici di breve e come dire poi non ci concentriamo su quello che è veramente il quadro importante cioè guardate che spettacolo questo questo time frame abbiamo una pesca di liquidità da questo pool di domanda abbiamo un candelotto mensile che è quello di ottobre che domina in direzionalità abbiamo provato ad assorbirlo con novembre con dicembre ma la domanda ha tenuto botta e quindi questo è veramente bullish a quanto mi riguarda sembra una sorta di triangolo di qualcosa del genere insomma però sicuramente è dominato dalla domanda se andiamo invece sul breve ci avviciniamo quindi cerchiamo di esplorare le micro dinamiche di questo periodo abbiamo il nostro dump il nostro ritracciamento dei massimi nuovi ma adesso finalmente c'è un po di segno di domanda che si fa vedere l'aspettavamo e sta arrivando abbiamo guardate dopo questo downtrend un ammorbidimento della direzionalità ribassista l'avevamo visto anche le scorse volte e questo denota domanda che tac tac si fa vedere sostiene no sostiene sempre di più ne abbiamo assolutamente bisogno sostiene e finalmente c'è una piccola 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 inversione di struttura come mai piccola perché deve ancora propagarsi dappertutto abbiamo per ora soltanto un un elemento cioè la domanda sotto il supporto che era un supporto importante quello dei 47 e 2 ed è bene molto bene non fraintendetemi non voglio dire che non vale nulla è anzi molto bene ripeto ma al momento dobbiamo ancora confermare almeno la volontà di rimbalzare di fare quel piccolo storno verde che stavamo tanto aspettando questa conferma per quanto mi riguarda la prima conferma sta nel sfondare nel superare nel riprenderci la zona 52 53 mila tac questa zona qua no se riusciamo a prenderla a bucarla allora quello è un primo segno di bene abbiamo trovato l'higher low e adesso andiamo a cercare questo benedetto high altrimenti siamo sempre compressi lì oddio per quanto ci riguarda potrebbe anche andare nel peggiore dei modi rifiutare clamorosamente il recupero di questo supporto ridampare giù fare un lower low e in questo caso purtroppo andremo a fare un equal low lato macroscopico rischieremo anche di rovinare un po il mensile di dicembre perché ritorneremo esattamente qua e cambierebbe i connotati guardate di tutto quello che abbiamo detto finora perché se il mensile ci va a chiudere di nuovo qua sotto abbiamo un assorbimento di questa candela verde ok quindi purtroppo andremo a inficiare parecchio la forza della domanda spero che non accada altrimenti dobbiamo regolarci di conseguenza e cambiare un attimino quella che è la strategia comunque e per quanto mi riguarda lo sapete cioè amplificare un po lo short di copertura andare un po frisca quelle cose che avevano detto no lato lato strategia da più più da bear market ma non parliamone ancora dai non facciamo i gufi oggi è la vigilia di natale bisogna essere presi bene bisogna essere positivi assolutamente positivi chiaramente nel senso di di mindset no di di spirito non in altro senso che adesso è meglio assolutamente non dirlo quello ma quindi andare a rompere qui andare a cercare anche il lower high non sarebbe male perché comunque facciamo un bel setup accumulativo bello pulito così da stabilizzare un attimino il mercato evitare eccessi di fomo e poi partire in quarta magari col 2022 non sarebbe affatto male acqua ghiacciata vieni a me che altrimenti divento divento troppo bullish e poi partiamo con le cose interessanti ovvero il mio eipin di stamattina così potete insultarmi preparatevi molto bene molto bene allora andiamo diretti al punto ultimamente vi ho giusto un attimino parlato di curve wars di convex wars delle guerre per il dominio del regno della defy no di fatto è quello quello che secondo me sarà il trend dominante dei prossimi mesi e magari anche dell'anno intero 2022 però non guardiamo troppo lontano che se no sbagliamo quel sicuro guardiamoci dritti davanti a noi guardiamo l'immediato no allora le curve wars ormai le abbiamo capite non ve le sto rispiegare ogni volta per non farvi nauseare se volete approfondire il tema abbiamo fatto il video nella top top 6 crypto del 2022 ne ho parlato in maniera abbastanza appunto approfondita e dettagliata vi faccio un esempio concreto visto che a sto giro proprio ieri è partito il cioè partito l'altro round l'ottavo round dei bribe che sono in sostanza le compravendite di voti no su su votium che è il protocollo che utilizza convex quindi in sostanza i protocolli questi che vedete no oggi n luna flx angle eccetera eccetera vanno a creare dei pool lo potrei fare anch'io guardate se io avessi un pool su curve potrei dire guardate votate il mio pool il pool non lo so belp se ci fosse con bel progetto votate il pool belp io vi regalo dei belp chiaramente quanti 5 trilioni visto che la supply sarebbe infinita e vado a creare il mio bribe e chi vuole va a votare il mio pool e reindirizza le ricompense in crv esattamente sul pool che ho deciso io in cambio chi ha ceduto il suo potere di voto riceve i token che ho messo nel mio nel mio bribe nel mio volt di incentivi chiamatelo come volete e insomma è un win win perché a chi va a depositare non me ne frega un tubo del potere di voto a me me ne frega come del potere di voto perché voto il mio pool e vado a pompare gli incentivi in crv quindi vado a pompare la liquidità che arriva sul mio pool perché più incentivi vuol dire più liquidità curve a liquidità i pool di curve a liquidità se hanno degli incentivi decenti vedete guardare per credere perché per se voi andate a vedere i pool che non hanno incentivi in crv o ne hanno pochi la liquidità e i volumi ok perché liquidità e volumi poi vanno abbastanza a braccetto e quindi il discorso è un po questo ci sono questi bribe che sono sempre crescenti per quale motivo perché se guardate i numeri adesso guardiamo questo round per fare uno studio concreto no abbiamo origin protocol che sbatte giù un milione 250 mila og n che sono quasi un milione di dollari poi luna babam babam un milione e uno di lui di dollari di luna sia nel pool ust warmall che nel pool mimo st niente male e che sapete la proposal di terraform labs ve l'avevo fatta vedere anche nel nel video dedicato no della della top 6 sempre la terraform labs ha fatto una proposta al che è passata di allocare un pool di luna ai bribes su votium proprio per utilizzare questo sistema anziché il liquidity mining diretto perché è più efficiente tra poco vi faccio vedere dei numeri a riguardo poi flx angle sul trapool cvx ecco questi sono i nuovi di convex vedete abbiamo un milione 259 mila sui nuovi pool cvx crv e cvx e th che sono appena arrivati sono migrati da sushi swap a curve e in sostanza con curve v2 che si può creare i pool anche non stabili diventerà secondo me un trend perché i pool tu puoi creare un pool con qualsiasi coin puoi creare un pool vbtc e th il tricrypto cioè che sono tutte diverse e ognuno può creare i suoi pool su curve comprare i voti e reindirizzare gli incentivi sul suo pool incentivi in crv e non nel suo token che non viene diluito e quindi è veramente forte come cosa no è molto più efficace comunque qua questi sono i numeri no lo refrescio perché l'ho aperto un po di tempo fa e non vorrei che fosse cambiato questo è l'ottavo round di bribes vedete e in sostanza questo numero ci dice quanto è efficace spendere investire da parte dei protocolli in bribe il bribe è il dollaro speso per comprare voti no il dollaro speso qui dentro investito qui dentro in incentivi un dollaro di bribes ti frutta 4,66 dollari di liquidity mining cioè capite quanto è efficace un dollaro investito lì è come 4,66 dollari di token emessi e in più diluisci il tuo token 4,66 volte tanto perché il bribe lo compri sempre con il tuo token però hai un'amplificazione di 4,66 volte su quello che accade cioè sul potere di fatto del di tale voto sulla tua liquidità sul tuo pool in termini di incentivi lato invece chi va a vendere il suo potere di voto i guadagni sono questi vedete che per ogni pool questa è una statistica che poi non è ancora completa penso perché c'è tempo ancora tre giorni per partecipare ci sono in sostanza su votium dei round ogni credo due settimane ogni settimana appena prima della votazione su curve perché anche su curve settimanalmente si vota la distribuzione delle reward e quindi votium cerca di comprare i voti per poi reindirizzarli durante il round di votazione di curve ecco allora in sostanza se si va a dare a vendere il proprio potere di voto sotto forma di vl cvx vi ricordate tutto quel discorso del cvx che viene scisso nella parte di apy la parte di voto ecco ne abbiamo parlato anche di quello per ogni vl cvx che si va a vendere in termini di voto qua che non vuol dire che lo perdiamo è vuol dire che lo deleghiamo infatti per partecipare a votium come venditori di voti ok come si fa bisogna arrivare qui con già i vl cvx quindi i cvx locati in termini di vl cvx e poi bisogna delegarli quindi si va a delegare prima dell'inizio del round e poi si sceglie dove ok a chi delegarlo e in cambio otteniamo la ricompensa ricompensa che ad esempio sul pool 3 euro che al momento è quello che frutta leggermente di più ed è questo qua di angle strano che è quello che frutta di forse è appena è appena arrivato perché il totale offerto è più basso mi aspettavo che fosse di più per questi che hanno un totale più alto ma c'entra anche la diluizione perché il totale è distribuito a tutti i venditori di voti e per ogni vl cvx vedete che siamo tra i 40 50 centesimi di dollaro che è un apy alto se fate due calcoli no di quanto vale un cvx lo locate per il vl cvx andate a vendere il voto e avete 50 centesimi di dollaro per ogni vl cvx e soprattutto non ogni round quindi capite che anche vendere il proprio voto frutta no e quindi è un mercato che la mia personale opinione è che si affollerà sempre di più lì i protocolli stanno aprendo gli occhi e si affollerà sempre di più nel 2022 vedremo sangue botte qualsiasi cosa per accaparrarsi il dominio di curve comunque questo per farvi un piccolo cappello introduttivo per dire che mancano dei grandi giocatori a questa lotta di potere che sono le dao modello olympus dao e simili e c'è uno si chiede ma perché non ci sono ancora entrate dentro a gamba tesa io credo la mia risposta è lo faranno molto presto perché non c'è dietro gente molto sul pezzo nel mondo della defy e c'è gente che comunque ha capito no come diciamo conquistare un po di potere sempre nel mondo della defy di conseguenza olympus dao e dintorni ci arriveranno e è questione solo di tempo con i pool di curve v2 io mi aspetto che olympus dao farà il suo pool lo incentiverà cercherà di comprare voti e così via e da qui arriva il mio ipin allora io ho scoperto ve l'avevo già presentato nel nel video stesso questo redacted si chiama che è un'altra dao c'è un modello olympus dao ma si fa chiamare sub dao quindi in sostanza un braccio una propagine di olympus dao tra l'altro ufficialmente riconosciuta perché guardate c'è stata è stata fatta una proposal alla governance di olympus dao il cui scopo era implementare redacted con un olympus branch quindi è riconosciuta no vedete the first official branch of olympus dao focused on acquiring quindi con l'obiettivo di acquisire crv cvx e altri token rilevanti tema governance quindi per controllare per espandere il rich quindi la insomma la possibilità di 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 controllo la il territorio diciamo di olympus dao in altri in altre aree no quindi l'obiettivo in sostanza è acquisire potere acquisire capacità di indirizzare queste reward detto in parole proprio concrete questi sono i benefit proposti a olympus dao da questa partnership il cui voto guardate è già andato più che bene quindi è già ufficializzato e potete leggerveli tutti insomma in sostanza è un win win per loro perché vanno a condividere parte della liquidità la redacte dal suo token che si chiama butterfly e butterfly al 10 per cento va in tasca a olympus dao che di fatto la possiede al 10 per cento quindi è la il punto più interessante a questo espandere la community di olympus e il liquidity rich quindi la potenziale raggiungimento della liquidità proprio di olympus a nuovi mercati convex curve frax e tokemak che sono quattro piattaforme che giocano ruoli chiave o giocheranno secondo me ruoli chiave nella defy quindi vedete che stanno emergendo dei nuovi protagonisti nella defy bisogna essere sul pezzo per seguire questi trend sono veramente importanti è qua che bisogna andare a studiare non la prossima shitcoin che farà 10 per cento il valore il valore è qui e quindi mi raccomando quando sentite in questi protocolli qualche nuovo nome qualche nome ricorrente andatelo ad approfondire ne potrebbe valer la pena quindi questo è un po il loro obiettivo di fatto loro hanno un una riserva redacte da una riserva tipo l'imbus dao fatta con i bond e ha fatto una vendita iniziale all'asta lo scopo di quella riserva è distribuirla in tre asset home crv e cvx per il momento ognuno dei quali viene messo a rendita e ognuno dei quali viene utilizzato per avere potere no crv e cvx sono gli asset dominanti in questo in questo specifico momento per la lotta di potere proprio su curve e secondo me l'obiettivo sarà proprio andare a creare il pool cioè io mi immagino da qui a pochi mesi un pool segnatevi queste mie parole vedremo se sarà vero o no un pool su curve fatto con home e qualcos'altro magari butterfly non lo so ci sarà dentro anche anche butterfly in un pool ma magari anche no ma home sicuramente mi aspetto anche time prima o poi perché daniele di sicuro non sta a guardare su queste cose e quindi utilizzeranno proprio il capitale il potere che hanno sotto forma di liquidità olympus dao ha una quantità di liquidità folle wonderland ha una liquidità folle per fare driving no per acquistare questi voti questo potere e utilizzarlo per indirizzare le reward proprio lì sto stressando un po su questi topic ma sono veramente secondo me i topic dominanti trend dominanti per l'anno successivo io io ci credo io sto studiando molto queste cose perché ci vedo la possibilità no e quindi guardate anche tra le varie cose di reindirizzare il 20 per cento del bribe capital tokemak convex e frax da protocolli esterni direttamente nella tesoreria di olympus dao e il resto dell'ottanta per cento va agli staker di butterfly quindi c'è anche una rendita non un sistema di rendita che è completamente sensato cioè ha un suo perché non è il fork buttato lì con gli apy altissimi e poi ci sono gli apy altissimi senza i quali non siamo contenti quindi sostanza il funzionamento è identico ai classici come si chiamano i classici dao infatti se voi vedete c'è il classico stake bond bond adesso si può fare soltanto con butterfly home quindi non conviene perché il roi anche più basso conviene acquistare direttamente butterfly e metterlo in staking è su ethereum non me ne vogliate è su ethereum non l'ho fatto io ma è stato fatto su ethereum e lo staking vedete che ha il suo solito apy assolutamente disumano con i suoi rebase eccetera 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 il funzionamento è questo l'obiettivo ve l'ho detto il suo senso ve l'ho detto è un play ad altissimo rischio non ve lo nascondo cioè ci sono i fondamentali ma si basa su speculazione no io ho fatto tante speculazioni sul fatto che olympus dao punterà ad avere il pulso curve redacted che gli darà il potere di bribing il capitale per fare bribing potrebbe diventare anche un bribing as a service volendo perché se riesce a ottenere abbastanza potere di voto al suo interno le altre da o magari fanno partnership per spartirselo in qualche modo cioè ci vedo veramente un possibile futuro con del valore intrinseco ecco questo è questo il senso che che volevo estrarre da questo discorso quindi non sono consigli finanziari fate le vostre ricerche non fate il pin solo perché ve l'ho detto io perché se scopro che fate così io non vi dico più niente sappiatelo io voglio che voi ragioniate perché so che lo potete fare ho enorme stima di tutti voi che mi seguite perché vedo che il livello si è alzato tanto e allora io oso un po' no vedo che il livello è alto se sapessi che tutti voi siete appena arrivati che sapete solo chiedere qual è la prossima coin che farà per 10 non ci penserei neanche a parlarvi di queste cose ma il fatto che andiamo così nel profondo e andiamo a toccare topic così importanti è per quello no perché comunque io penso che siate assolutamente all'altezza quindi mi raccomando fate le vostre ricerche ragionate studiate capite e poi eventualmente trattatelo come gamble però fatemi questo piacere vi prego vi prego e quindi questo è quanto poi si può andare a studiarsi un po' tutto il senso di redacted nelle sue documentazioni dove vi spiega un po' più nel dettaglio di quello che ho fatto io le quattro fasi del protocollo e poi qua arriva la seconda cosa ieri vi prendevate in giro per il cucchiaio nella live con i ragazzi di hardrock crypto con tutti gli altri pazzoidi perché io vi ho fatto vedere questo questo bellissimo cucchiaio che ho preso ieri cucchiaio nft ma di fatto cioè c'è un senso in tutto ciò e non è l'unico ho preso anche questi nft costavano poco più le fidi ethereum che sono abbastanza un furto ma vabbè questi sono soldi buttati a per quanto mi riguarda perché qui andiamo veramente nel nella follia ma allora il senso è questo se voi guardate sempre all'interno di redacted qua c'è concave tra i vari le varie partnership con che in sostanza è un qualcosa che non si capisce ancora cos'è però se voi andate sul loro twitter aspettate che lo andiamo ad aprire vengono fatti spesso dei riferimenti a curve a olympus dao a redacted stesso allora aspettate che lo vado a cercare concave oplà cioè ci sono un bel po di riferimenti vedi home mica home insomma andate a darci un occhio scoprirete che c'è abbastanza qualcosa di sotto ecco non si capisce bene cosa poi concave convex curve anche lì c'è sotto sicuramente qualcosa e hanno fatto del degli nft dei community nft si chiamano proprio vi faccio vedere una cosa aspettate dovrebbe essere vediamo se funzica non funzica no non era questo era era no l'altra sorge ok ce l'abbiamo fatta ci si prova ce la si fa questo è il discord di concave e ci sono delle faq dove vai ti spiega che cos'è e non si capisce niente cioè dice sembra propagare l'utilizzo di home come una research currency e ha a che fare con con olympus dao sarà costruito on top di home come primitiva bla 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 ma tante cose ma senza troppi dettagli no lancerà nel q1 2022 che stanno ditando eccetera 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 e insomma se vi va di approfondire fatelo e non ho interesse nello non è sponsorizzato da nessuno è questo video ve lo dico è solo un mio frutto di studio personale e di e ipagine e si può vedete acquistando questi nft che sono anche brutti sinceramente e holdandoli vedete che c'è un airdrop retroattivo e quindi ho detto è buttiamo via un po di di spicci su sti benedetti nft e basta ci sono anche altri modi cioè ad esempio andare contribuendo alla community eccetera 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 però ho detto guarda visto che ci sono delle sinergie comunque con tutto il mondo l'impus dao concave convex curve e dintorni ma se vediamo un po come va dai proviamo a fare questa ipata costava veramente poco agli nft altrimenti non ci avrei manco pensato ma l'idea di partenza era assolutamente quella quindi niente non 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 aggiungo altro perché altrimenti parliamo solo di questo oggi ma vi volevo solo condividere queste e ipate tac che belli con cave spoons sono veramente brutti davvero brutti cosa costavano 002 iter quindi dai lo si può fare peccato per le gas fee e quindi niente questo è quanto ditemi pure cosa ne pensate se vi sembra folle se lo ritenete una cosa con potenziale oppure no ma vediamo io vi aggiornerò di volta in volta sul come andrà sapete che lato mio c'è la massima trasparenza questo fa parte dei miei dei miei gamble ok io lo tratto come tale poi andando avanti rapidissimamente con le notizie perché poi lascio la palla a voi abbiamo la nostra senatrice l'ammis di u del wyoming che è pro cripto da sempre e vuole proporre una bill omnicomprensiva sulle cripto il prossimo anno con tutte le regolamentazioni fatte bene fatte con cognizione toccando tutti gli aspetti fiscale normativo dichiarativo insomma una roba bella ben fatta quindi speriamo che se la filino poi cos'altro abbiamo binance che lista ust e luna che gode assolutamente qua c'è un giveaway scam fate attenzione a queste schifezze qua sempre non fidatevi mai nessuno fa giveaway poi ap wine ne parleremo un'altra volta perché se vi faccio un pippozzo anche su questo oggi vi sparate per davvero e comunque un protocollo defy che mi sembra interessante di derivati su creare dei future in sostanza sulle rendite degli altri protocolli defy quindi in qualche modo prezzarli su un future cose cose strane non oggi non oggi popsicle che arriva insieme a uniswap v3 su polygon uniswap v3 tra l'altro è già live e ha una decina di milioni di tvl mi aspettavo di più nel nei primi è il secondo giorno oggi e uniswap v3 è estremamente efficiente quindi molto bene molto bene anche per popsicle che non è ancora attivo perché ho provato stamattina qua dice you can access our ui ma se la solo la ui mi immagino perché vi faccio anche vedere ci sono sì i pool andiamo su matic join the adventure vedete che coming soon è tutto in coming soon quindi interessante ma non ancora disponibile vi terrò aggiornate anche su questo sugli apr che darà poi poi cosa abbiamo abbiamo partiamo con quelle le cose veloci anchor protocol che sta andando cross chain cosa che serve perché adesso a me spaventa un po' il fatto che la il riserva di anchor sta dampando è calata da 79 milioni a 74 nel giro di una quindicina di giorni quindi se continuiamo di questo passo tra un paio di mesi potremmo iniziare a dover fare un attimino di attenzione con gli apy no e quindi ci vuole in sostanza un incentivo al borro ci vuole più borro più utile per ancor altrimenti gli api si abbassano e non sono più sostenibili e noi tutti amiamo le api di ancor pertanto dobbiamo assolutamente evitare che ciò accada per evitare che ciò accada o si aggiungono magari nuovi collaterali immagino che a breve arriverà bisol biatom avevo letto e e poi l'andare cross chain non solo più su terra ma anche su altri protocolli tanta roba sarebbe e e magari ecco con orion che ha un suo una sua propagine diciamo orientata appunto al cross chain solo la turn per ora potrebbe essere interessante infatti loro dicono che stanno lavorando insieme su questo interessante implementare anche il borro proprio perché genera utile per ancor e partecipa quindi al riempimento della il riserva ultima cosa abbiamo pectoni finalmente il nostro money market su kronos quindi andiamo a switchare subito su kronos e andiamo a vedere tac andiamo a vedere cosa ciò comporta allora per adesso abbiamo mezzo miliardo di supply il che porta tra l'altro kronos secondo me gli ha fatto fare un bel salto di qualità no in termini di tvl tanto ma perché kronos cresce organicamente è una di quelle c'è in che sta con c'è sta veramente funzionando bene l'hanno già messo no o sì non c'è tectonic ancora qua dentro non c'è ancora quindi secondo me e no sarebbe seconda quindi secondo me questo 1.74 billion c'è da aggiungere il mezzo billion di tectonic quindi se ci sarebbe un pan così sta crescendo cresce in maniera lineare è bellissimo grafico da vedere questo troppo regolare comunque tectonic molto bene perché guardate le attualmente gli api che garantisce sono ottimi sia lato supply che lato borrow ovvero io posso banalmente andare a depositare cro su tectonic per un 40 per cento di api pagato in parte nativo 4 4 e 33 nativo cro 33 36 invece in tonic gin tonic benissimo e niente male cioè è veramente alto ether 10 per cento btc rapid btc 9 per cento le stable neanche particolarmente goloso beh dai sì che è un 27 per cento perché ha un tasso di utilizzo più alto il funzionamento come sempre dipende dal tasso di utilizzo cioè il tasso di interesse effettivo punta al mantenere il tasso di utilizzo sotto all 84 per cento vedete sopra il quale i tassi di interesse iniziano a salire abbastanza disincentivando quindi l'apertura di debiti altrimenti ti costano cari questo un po il senso ma al momento veramente anche borroare paga perché guardate che storia borroare stable tipa borroare usb c ti paga il 20 per cento netto più o meno in tonic cioè tu paghi il 37 ma ricevi il 24 in tonic borroare vbtc ti paga il 27 per cento pure lì borroare vth ti paga il 30 borroare cro ti paga il 34 35 anzi 40 77 non dureranno credo perché io mi aspetto che almeno raddoppierà questo questa dimensione del del mercato cioè mezzo miliardo su un money market è basso ma bisogna sfruttare i momenti in cui ancora basso cioè quindi se qualcuno è interessato a farmare e farmare su kronos cioè se qualcuno sta farmando su kronos c'è questa possibilità per il momento ricordatevi che di controllare ogni giorno perché questi numeri sono destinati a cambiare a questi numeri piace cambiare come alle scale di hogwarts e basta questo è quanto quindi molto bene per kronos per vabbè lo immagino lo sappiate ma il modo più semplice per arrivare a tectonic è utilizzare l'app di crypto.com che ti permette di prelevare direttamente su kronos le principali coin quindi potete usarlo come bridge immagino che tutti voi ormai abbiate un account sull'app di crypto.com se non ce l'avete c'è il mio referral link in descrizione che vi regala pure 25 dollari in cro se ordinate una delle carte premium e quindi niente questo questo è quanto ottime opportunità secondo me al momento su tectonic ho finito ho terminato tocca a voi direi ragazzotti miei amici miei e nel frattempo teniamo qua i nostri graficozzi con aperto anche di lato il la panoramica complessiva e sotto con le domande sotto con le domande allora big pump sushi sul daily assolutamente sì alla luce di quanto ha detto daniele quale sarà il valore fondamentale del token sushi e dunque il valore fondamentale dipende dipende perché dipende da cioè è un token al momento di governance e liquidity mining e voto quindi c'è sushi sushi c'è un modello un po di lock per evitare i farm and dump seriali ma dipende da cosa ci vuole fare ci voleva fare un order book voleva portarlo anche su phantom diceva e fare un modello order book un po tipo quelli su solana non so se avete presente tipo serum e quello potrebbe essere cioè generare più liquidità su sushi e chiaramente ciò va a incrementare il suo valore cosa intendi luke con diluizione com'è possibile che il valore quadruplichi in curve concedendo il potere di voto in che senso con diluizione il valore quadruplichi concedendo il potere di voto non credo di aver capito bene cioè forse intendi quella è il discorso del bribe no che un dollaro vale 4,4 dollari di liquidity mining ma perché il potere di voto in quel caso lì è del vl cvx che riceve tutto il potere di voto dei convex che invece di cvx che invece diventano dei com'è che si chiamano gli a 10 vx ecco non mi veniva no no c'avevo un altro nome insomma il cvx tu ci puoi fare due cose o loccarlo e avere potere di voto oppure rinunciare al potere di voto e avere un ipy altissimo in sostanza il potere di voto si chiama vl cvx che sta per vote lock dell'altro non mi ricordo come si chiama ma in sostanza rinuncia al potere di voto e lo dà ai vl cvx quindi il rapporto tra i due fa decide il peso no del vl cvx sotto al vl cvx c'è i crv i vari crv che vengono controllati e quindi un vl cvx in base a tutti questi numeri ha un certo potere di voto equivalente poi facendo i vari calcoli un dollaro di quello equivale a 4,4 dollari di emissioni in crv sul protocollo è un po complicato ma per fortuna c'è il c'è quella dashboard che lo fa per noi allora aspettate che ho perso la chat ma invece io la voglio eccola qua allora oh mamma mia mamma mia grande luca si vede che ti sei ripreso insieme a bitcoin aiuto no ma io sono sempre sul pezzo ragazzi non si molla mai non si molla mai mai mollare che sale scende il mercato mai mollare io sono sopravvissuto a tutto il 2018 2019 il bear market peggiore della storia io continuavo a fare video imperterrito mi non mi filava nessuno ma io li facevo lo stesso allora babbo natale dovrà cambiare il colore del suo vestito verde quest'anno sarà verde babbo natale assolutamente sì ma con gli amm v3 tutto questo non ha meno senso intendo la curve war intendi uniswap v3 ma guarda secondo me loro sono un po competitor hai ragione però secondo me visto il ruolo che ha curva adesso e vista la liquidità che ha uniswap al momento non ha nemmeno un liquidity mining non ha nemmeno un programma di ricompense quindi ci sono molti più incentivi a creare il pulso curve e cioè secondo me hanno due ruoli diversi e poi uniswap ci sono dietro i wc sapete che c'è anche un po quel discorso lì no di pseudo centralizzazione a molti protocolli defy piace meno e quindi io credo sono fermamente convinto che curve avrà sempre quel suo pubblico lì no allora luca ti prego solana che cosa che cosa che cosa ti prego solana vuoi vedere il grafico andiamo andiamo sol btc è sempre lì è sempre lì che lateralizza cioppa cioppa tac 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 così non non si muove non si muove quindi setup è sempre volendo pescare su range low e vedere che fa e invalidazione sotto in caso di uscita da qua dunque si potrebbe anche ragionare così sol non malaccio non malaccio però vabbè ora come ora vicino ai massimi non lo so non andrei a cercarci la posizione speculativa sinceramente esatto intendevi bribe con diluizione invece intendevo quelli a cui facevi riferimento dicendo che vengono emessi crv piuttosto che i token del pool stesso ok allora in sostanza tu su curve vedi sui vari pool di curve hai sempre delle reward in crv oppure in token se uno vuole creare le reward in token le reward in crv vengono votate di volta in volta da ogni settimana abbiamo aspettate scusate devo tornare su ethereum altrimenti sclera vi volevo far vedere proprio concretamente cosa succede abbiamo l'allocazione vedete dei voti su per 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 le reward successive e questi voti vengono espressi da chi ha i vie crv che sono i crv bloccati fino a quattro anni ne avevamo parlato anche lì nel video in sostanza quello che fa convex è accentrare convex possiede quasi il 50 per cento dei tu di tutti i vie crv quindi di tutto il potere di voto su curve e quindi convex emette il suo vl crv il vl crv controlla molto più di un vie crv cioè c'è questo fattore uno a tanti e quindi chi controlla un vl cv x di fatto ha un potere di voto molto forte da lì c'è questo fattore di amplificazione e in sostanza quel numero lì 4 virgola cos'era era qua 4 virgola 70 vedete qui ti dice quanto le emissioni le goge emission rewards quindi quello che viene pagato all'interno del pool verrà dato ai liquidity provider per ogni dollaro speso nei bribe è una stima credo ma abbastanza veritiera e in sostanza qui ti dice anche un valore sopra un dollaro vuol dire che è meno costoso cheaper fare bribing rispetto che direttamente pagare il liquidity mining perché tu per un dollaro con l'equivalente di emissione in crv che hai con un dollaro tu con questo dovresti spendere 470 nei tuoi token per avere la stessa emissione ok lo stessa la stessa ricompensa per l'utente finale certo in un caso in crv nell'altro caso sarebbe nei tuoi token però è tutto guadagnato per le tue tokenomics anche no oltre che per le spese e quindi questo è un po il discorso secondo me poi uno può dire anche ma allora crv diventa super inflattivo lo è già cioè crv è un token super inflattivo ma il fatto è che un'enorme quantità di crv cioè i protocolli li stanno cannibalizzando se li vogliono tutti e li vogliono tutti per bloccarli per avere ancora più potere di voto perché se un protocollo smette di bloccare crv e li tampa per dire l'altro protocollo li acquisisce e li prende lui li locca e incrementa aumenta di fatto il suo potere di voto e il potere di voto vale di più del dampare il crv questo secondo molti protocolli allora torniamo a noi cosa consigli di fare con i crv o i cvx su che piattaforma metterli su convex indubbiamente su convex danno dei rendimenti veramente alti tra l'altro perché oltretutto oltre ad essere degli asset con del grande secondo me valore fondamentale ti danno dei dividendi folli folli al momento adesso qui ci sono quelli vecchi sui pool eccetera ma adesso arrivano i nuovi pool quelli che li hanno migrati su curve e in sostanza guarda il cvx crv ti dà un 50% in sostanza se tu metti curve su convex e di fatto da qua tu fai converti crv lo converti e lo converti in cvx crv poi lo metti in staking e hai le ricompense in in cvx vede no non solo in cvx guarda hai ricompense in parte in crv in parte in cvx e in parte nelle tre stable coin quindi ricompense del 55 per cento per stakeare crv su convex distribuite in questo modo e quindi direi niente male mentre cvx lo si può alloccare per ottenere i vl cvx l'apr qua è basso ma poi vai a fare vai a vendere i tuoi voti qui e ottieni questi token puoi ottenere luna puoi ottenere altri cvx puoi fare il bribing cioè vendere far la controparte del bribing e niente male altrimenti in alternativa i cvx lì si può mettere lì si può mettere allora vediamo vediamo se c'è qualche c'è no cvx crv sempre c'erano i pool cvx e th quindi è un pool su curve sempre con cvx e dth con un 80 per cento proiettato adesso il 41 diventerà 80 perché appunto stanno braivando come se non ci fosse un domani e poi l'altro era cvx crv crv no quello lì quello lì ok quindi ho il lock oppure oppure si può mettere in staking direttamente i cvx per ottenere cvx crv ma secondo me è meglio lockarli per per avere a sto punto la possibilità di di braivare io farei così allora 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 dunque 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 adesso dove conviene farmare crv dai lp vvs allora dipende perché su vvs un pool doppio mentre su tectonic è singolo su tectonic hai con solo crv vai a dare supply hai quasi il 40 per cento mentre su vvs è più alto chiaramente ma è cro qualcos'altro quindi dipende dipende un po' se no c'è il buon vecchio bifi sempre appoggiato a vvs vediamolo giriamo su cronos andiamo a vedere cronos vai e niente come non detto non gli piace su cronos c'è qualcosa che non va ma solo su cronos da questo errore bad gateway non lo so non so che succede comunque su vvs ci sono i soliti pool croatom cro vbtc che non è male aspettate andiamo a rivederli per per completezza insomma è giusto così cro ith cro vbtc cro usdc non mi piace granché ah c'è anche il nuovo pool con tonic cro dai siamo sempre lì cro shib lasciam stare quindi no cro ith cro vbtc e cro a dove è croatom non c'è più ecco ok non è perso fulminato completamente croatom anche questo non è male però sono pool con due componenti quindi il discorso la differenza è lì ecco andiamo tac 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 allora consigli di fare un lean su wonderland su shi atom o phantom a 100 euro guarda non ti consiglio proprio niente amico mio ragione bifi ha scammato impossibile dai bifi ha scammato spero spero vivamente di no spero vivamente di no ma cosa è successo scherzi a parte a bifi cioè sono sono veramente curioso dunque 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 domandona da un milione un target per quando venderai i tuoi btc grazie e buone feste no in realtà no perché ho il bifi su chronos a me funziona e infatti boh sarà un problema mio magari con brave o qualche impostazione va prima cambiata la cinta metamask sì l'ho cambiata ho messo chronos vabbè ogni tanto non andava non lo so vediamo poi ci smanetto un po' e allora no in realtà io ribilancio il portafoglio quindi quello è il metodo per cui cioè con cui io vado ad adattarmi dinamicamente al prezzo questo è un po' il discorso ma il sito che dà le previsioni delle cripto perché lo fanno ci prendono ogni tanto non fidatevi di nessuna previsione mai mai perché sono tutte gigantesche buttanate buttanate cosa ne pensi di bat il token di brave non mi piace non mi piace perché non ha un vero valore intrinseco cioè zero dai luke due graficozzi l'una btc vai graficozzi time allora btc l'abbiamo già visto e soffiamo come se non ci fosse un domani deve riprendersi qua 52 53 poi via iniziamo l'anno col botto poi col bottom no i bottom di capodanno e poi 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 cosa abbiamo di bello allora eth vabbè partiamo con eth mmm non benissimo eh perché qua stiamo facendo una roba del genere quindi attenzione a eth che ci fa questo scherzone vediamo cosa combina perché se non va a fare un higher high adesso qua non è più un bel setup da andare a seguire quindi spingi eth spingi spingi come solo tu sai fare l'una l'una btc allora l'una btc ci sono dei segni di offerta non indifferenti guardate queste shadow quindi attenzione perché questi sono i primi segni di sell off è esteso il grafico è molto esteso ci sono i primi segni di offerta quindi non facciamo cose folli mi raccomando ve ne prego ve ne supplico famo i bravi famo i bravi e che dire non c'è niente da dire in realtà se inizia a ritracciare ben venga vediamo sull'weekly cosa abbiamo abbiamo quest'area questa potrebbe essere una prima area però porco cane cioè talmente esteso che io aspetterei sinceramente non da fare un cecor cioè da andare subito qui dentro ma aspetterei che si delinei un po' una struttura quindi che arrivi qua e magari va a fare anche va a trovare anche l'ai successivo cioè da aspettare ancora un po' perché affinché c'è un'estensione del genere diventa complicato e rischioso andare a prendere posizioni secondo me Luca secondo te quanti bananari ci vogliono per cambiare una lampadina secondo me due uno che tiene ferma la lampadina e l'altro che ruota il lampadario intorno alla lampadina almeno due ci vogliono il terzo che mangia la banana e il quarto che nel frattempo fa un video sulle dieci cripto più importanti quindi quattro bananari ci vogliono cro andiamo a vedere cro allora cro beh 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 niente male niente male si sta riprendendo alla grande e anche qui voglio vedere la struttura che fa perché al momento abbiamo un top molto forte e abbiamo la prima reazione quindi il primo bottom locale che potrebbe essere proprio qua dunque quindi vediamo adesso dove sarà l'i dove andrà a fare l'i ma perché su okx tra l'altro non c'è un grafico migliore no purtroppo no su bybit c'è il per e su no c'era porco cane c'era su su ftx eccolo però c'è meno storico oh che bello che bel grafico questo wow allora 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 ecco esatto abbiamo un abbiamo trovato il low tac adesso dobbiamo trovare l'i abbiamo rotto questa zona 61 centesimi bene adesso stiamo cozzando contro quest'altra resistenza a 68 69 e però ripeto vorrei vedere dove va a trovare sia l'i che il prossimo low e poi da lì eventualmente si costruisce la posizione perché insomma siamo ancora c'è ancora questo top molto forte che mi spaventa quindi è difficile poi andare a a trovarla cioè sull'estensione c'è il rischio di fare degli ingressi un po' troppo arroganti allora se riesci uni andiamo a vedere uni 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 dove sta qua e uni purtroppo sono un po' spento è un po' spento è un po' spento ha trovato supporto supporto qua non so perché perché l'avevo tracciato questo boh deriverà da valori storici e ha trovato supporto vediamo ma no non è un grafico che sinceramente andrei a seguire come posizione speculativa no 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 come direbbe carlos matos grafico di atom andiamolo a vedere tappe atom dunque adesso vediamo come chiude la settimana perché sta sfidando questa resistenza 5500 sat ma vedo che inizia ad esserci un po' di offerta però beh lato daily è bello sembra un bullish retest però vediamo perché non sarebbe la prima volta che fa ste giocate quindi occhio perché speculativamente atom non è bellissima da gestire cioè ti fa dei movimenti strani se i valori fondamentali ci sono tutti la speculazione è un po' più difficile da gestire amici io vi saluterei a sto punto perché vi lascio andare vi lascio andare al cenone sono le sette e mezza è quasi ora mi tocca scappare anche a me quindi amici io vi direi di che ci vediamo ci vediamo lunedì o no lunedì che giorno è 25 26 27 dovrei esserci dovrei esserci perché le vacanze me le faccio a gennaio quest'anno ogni tanto stacco un po' anch'io mi faccio una decina di giorni a gennaio ma fino ad allora dunque lunedì no lunedì ci siamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo lunedì quindi non dovrete sentire più di tanto la mia mancanza vi auguro uno splendido natale a tutti voi e alla vostra famiglia e speriamo veramente che quest'anno facciamo il bottom di capodanno cioè che poi ripartiamo e andiamo tutti insieme ci vuole un bel 2022 2022 bullish contrariamente a quello che io avevo in mente perché se insomma i top signal una cosa e l'altra però oggi voglio essere bullish voglio insomma finire la vigilia di Natale così con l'essere bulle essere verde oggi babbo Natale verde domani non vestito di rosso ma di verde quindi io spero che sia stato di vostro interesse l'approfondimento iniziale di non avervi annoiato a morte me lo auguro vi auguro di nuovo un buon Natale a tutti e ci vediamo lunedì come se niente fosse proprio e vediamo come ci ritroveremo e mentre si avvicina la fine dell'anno e chiudo un'altra candela annuale e noi siamo sempre carichi siamo sempre sul pezzo buon cenone a tutti buone bevute buone mangiate divertitevi staccate un attimo dai grafici ogni tanto uno sguardino ce lo diamo ma poche volte al giorno dai e basta alla prossima ciao ciao